Catturò dieci navi avversarie. Nell'autunno del 411 a.C., nel corso della guerra del Peloponneso, una squadra navale ateniese di 61 legni si scontrò con 76 navi spartane guidate da Mindaro. Il combattimento non si decise sino a quando, in soccorso degli ateniesi, non giunse una piccola flotta al comando dello stratega Alcibiade, che vinse la battaglia e catturò dieci navi avversarie. Come mai i greci erano così impegnati in una lotta fratricida? Commento Buona guerra!